ben ritrovati con l'analisi dedicata alle materie prime che movimenti che movimenti stiamo assistendo in questo momento sui mercati prima ti devo ricordare ti aspetto nella trading zona community pensata per la che ha la passione per gli investimenti la finanza per investitori traders e guardate c'è un meeting in corso andiamo 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 a collegarci tutti i pomeriggi c'è questo meeting in cui è possibile condividere intanto ammettiamo ammettiamo pure daniele che si è appena collegato dove si può condividere insomma i propri monitor farsi vedere in audio in video con la webcam in audio condividere strategie seguire adesso l'apertura di wall street che sarà in forte calo quindi registrati registrati gratis vieni sul mio sito renatodecarolis.it lo trovi anche sotto nella descrizione del video cercami su google facebook twitter linkedin instagram twitter dappertutto dappertutto partecipa a questo progetto gratis e in più e in più per gli utenti più attivi quelli che pubblicano più analisi interagiscono scrivono più messaggi c'è 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 ci sono ci sono i buoni amazon vedete viene premiata la condivisione ogni giorno 20 euro di buoni amazon così distribuiti 10 euro al top chatter quello che avrà scritto appunto più messaggi e 5 euro al secondo e terzo classificato e ogni giorno si riparte al zero quindi è la possibilità poi di sommarli a fine mese trovarti un bel guzzonetto mese dopo mese anche arriverà centinaia di euro di buoni amazon vieni dai ti aspetto è tutto gratis e andiamo a vedere questo tracollo dei mercati e delle materie prime guarda lì guarda lì guarda lì adesso gold questo è gold sotto il grafico un minuto sopra il grafico di tendenza giornaliera ai chi nasce che ci dice in questo momento stiamo battendo sul supporto dei 1911 44 un'eventuale chiusura giornaliera sotto questo livello andrebbe decretare la fine di questo trend rialzista che faccio vedere con le candele chi nasce da qui era partito ma poi su questo livello del quattro ore 1987 80 praticamente aveva poi invertito la rotta e quindi al ribasso per quanto riguarda gold e cosa dire del petrolio guardate lì petrolio che era fermo praticamente ormai da diverso tempo laterale molto laterale si era appiattito al ridosso di 43 dollari e poi con questa candela del 2 settembre inizio mese c'è stato un affondo e stiamo arrivando su quello che il livello 34 e 62 individuato sul grafico a quattro ore faccio vedere eccola qua quella che è stata in precedenza una resistenza una volta violata è diventato supporto quindi occhio a questo livello ma fino a quando il colore è rosso ai chi nasce potrebbe andare anche più giù quindi attenzione perché supporti resistenze sono destinate a essere violate a saltare nel tempo forti vendite anche su silver petrolio meno 5 in questo momento silver pure accusa un calo di quasi due punti percentuali e procede quindi la discesa dalla resistenza 28 e 90 segnalata da questa candela rossa sempre del 2 settembre platinum è lì è un per cento al ribasso il gas naturale meno 0 70 però queste candele verdi in parte hanno smentito questa possibile inversione che resta ancora intatta fino a quando non ci saranno chiusura giornali era sopra i 2 60 rame rame che aveva da poco violato la resistenza oggi fa meno 181 infine il palladium meno 0 52 e si vede si vede una traccia possibile candela rossa ai chi nasce bene allora mi fermo qua mi raccomando ti aspetta nello sbirciare andiamo sbirciare vediamo se stanno condividendo no non stanno condividendo i monitor perché volevo farvi vedere anche i grafici comunque dai ti aspetto nella trading zone appuntamento a domani ancora con una nuova analisi dedicata alle materie prima e commodity grazie buon proseguimento di giornata